Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Apriamo con la cronaca scoperta all'Ocri in provincia di Reggio Calabria una truffa ai danni dell'Inps. All'Ocri la Guardia di Finanza ha scoperto alcune persone responsabili di una indebita percezione di assegni sociali ai danni dell'Inps, richiedendo contestualmente l'applicazione della misura del sequestro preventivo per equivalente. L'attività investigativa condotta dai finanziari ha riguardato alcune persone che di fatto risultavano emigrate nei paesi dell'America Latina dove avevano stabilito la fissa dimora pur risultando anagraficamente residenti nel nostro paese e che al compimento del 65esimo anno di età rientravano in Italia per il tempo strettamente necessario per adempiere le previste formalità per l'ottenimento dell'assegno sociale istituito con la legge nazionale, la 335 del 1995. Sotto il costante coordinamento del procuratore capo della Repubblica, il pubblico ministero titolare del fascicolo processuale, condividendo la testa investigativa corroborata dagli imprescindibili elementi di prova individuati, avanzava la richiesta al giudice per le indagini preliminari di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il giudice per le indagini preliminari, all'esito delle proprie valutazioni, avendo accertato l'assenza di uno dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, vale a dire la dimora abituale e stabile sul territorio nazionale, ha riconosciuto la sussistenza del FUMUS della truffa aggravata ai danni dell'Inps disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per oltre 300.000 euro nei confronti di 12 indagati in ragione dei valori immobiliari, mobiliari di cui ognuno risulta intestatario. Apriamo ora l'ampia pagina dedicata alle elezioni comunali in Calabria, iniziamo con Catanzaro e vediamo com'è andata. Il 75,82% degli aventi diritti si è recato alle urne a Catanzaro per rinnovare la propria amministrazione. Affluenza considerevole per il capoluogo che, come prevedibile, dovrà ricorrere al turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo nuovo primo cittadino. Dopo il primo turno restano in corsa il candidato di centrodestra, il sindaco uscente Sergio Abramo, ed il candidato di centrosinistra, Vincenzo Ciconte. Smentiti i primi exit poll che davano il candidato Nicola Fiorita in vantaggio rispetto a Ciconte, quindi al ballottaggio con Abramo. Man mano che lo spoglio procedeva, il dato si è infatti allineato a quelle che erano le previsioni della vigilia. Il sindaco uscente Sergio Abramo, candidato del centrodestra e sostenuto dalle liste Forza Italia, Catanzaro da vivere, lista civica con Sergio Abramo, Federazione Popolare, Officina del Sud e Obiettivo Comune, conquista circa il 40% dei consensi totali. Si ferma intorno al 31% il medico e consigliere regionale Vincenzo Ciconte, candidato del centrosinistra, sostenuto dalle liste Fare per Catanzaro, Svolta Democratica, Partito Democratico, Unione di Centro, Catanzaro in rete, Socialisti e Democratici, Alleanza Civica, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Salviamo Catanzaro e Pensionati d'Europa. Nicola Fiorita, l'outsider di turno, sostenuto dalle liste civiche Cambiavento, insieme per Fiorita e Catanzaro 1954, conquista oltre il 22% delle preferenze, che sarà decisivo in chiave ballottaggio fra due settimane. Si ferma alla 6% invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Granato. Ascoltiamo ora l'approfondimento del voto nei comuni del Catanzarese. 14 sindaci eletti, uno da definire al ballottaggio, ossia quello del capoluogo, e due elezioni non valide per il mancato raggiungimento del quorum. In provincia di Catanzaro, dove ha votato più del 72% degli eventi diritto, nei 17 comuni chiamati a rinnovare la propria amministrazione, i comuni di Montauro e Satriano, dove solo una lista era in corsa, hanno deciso di rimanere senza una guida. Solo il 35,33% degli eventi diritto ha votato a Montauro, ancora meno a Satriano, dove alle urne si è recato solo il 29,08% degli elettori. Sindaco eletto invece in altri 14 comuni. A Botricello vince con il 63,84% delle preferenze Michelangelo Ciurleo. A Caraffa di Catanzaro fa la sua corsa a tre per la poltrona di primo cittadino, Antonio Giuseppe Sciumbata, con il 42,01% dei consensi. Sindaco eletto anche a Cenadi, dove con 63,51% dei voti vince Alessandro Teti. A Centrache è successo pieno per Fernando Sinopoli, con il 79,9% dei consensi. Affermazione per pochi voti, appena 20 di distanza dal proprio avversario, a Cerva, dove con il 51,17% Fabrizio Rizzuti conquista la poltrona di primo cittadino. Anche a Isca sullo Ionio vittoria stretta per l'eletto sindaco Vincenzo Mirarchi, che vince con il 52,86%. Salvatore Paone vince la corsa a tre a Maida, conquistando il 40,91% dei voti. Mentre ad Olivadi Nicola Malta viene eletto grazie al 59,85% dei consensi. Per 11 voti Domenico Mazza la spunta a Petrizi. Solo 9 voti invece bastano a Michele Rizzo per superare il proprio competitor e venire eletto sindaco di Platania. Successo pieno a San Pietro Apostolo, dove sindaco eletto il Raffaele De Santis con il 74,61% delle preferenze. A San Vito sullo Ionio vittoria per Alessandro Doria, con il 50,89% dei consensi. Sofferta anche la vittoria a Serzale, dove con il 50,34% dei voti sindaco eletto il Salvatore Torchia. Infine vittoria più larga a Settingiano, dove la spunta Rodolfo Iozzo, grazie al 64,05% dei consensi. Vediamo invece cosa è successo nei comuni del Cosentino con il servizio di Paolo Talarico. Sono stati più di 20 comuni in cui si è votato per il rinnovo dei consigli comunali in provincia di Cosenza. Due quelli oltre ai 15.000 abitanti ed in entrambi si andrà al ballottaggio. Fra 15 giorni a sfidarsi per la poltrona di primo cittadino del comune di Paola saranno due ex sindaci della cittadina tirrenica, ovvero l'uscente Basilio Ferrari, rappresentante del centrodestra, che si è fermato poco al di sotto del 30% delle preferenze, e Roberto Perrotta, sostenuto dal centrosinistra, che ha sfiorato il 40%. Altro ballottaggio, quello di Acri, altro comune in cui è previsto il doppio turno. Il candidato del centrosinistra, però, Pino Capalbo, ha sfiorato la vittoria grazie ad una percentuale pari al 49,3%. Alle sue spalle la centrista Anna Vigliaturo, che ha superato di poco il 20%. Per quanto concerne i centri al di sotto dei 15.000 abitanti, ad Amantea il nuovo sindaco è Mario Pizzino, con una percentuale di voti pari al 43%. Stessa percentuale per Francesco Lo Giudice, nuovo sindaco di Bisignano. A Praia Mare, riconfermato, Antonio Pratico, con quasi il 68% delle preferenze. Dalla costa tirrenica, infine, passiamo a quella ionica, perché a Trebisacce il sindaco è Francesco Mundo, anche lui riconfermato, con il 61% dei voti. E ora Paola Venturino ci racconta com'è andata nel Vibonese. Sono solo 13 i sindaci eletti nel Vibonese contro i 14 chiamati al voto, perché a Filandari, essendosi presentata una sola lista e non avendo raggiunto il quorum, l'elezione è stata considerata non valida. Ma andiamo per gradi. Ad Arena, riconferma di Antonio Schinelli, che con la lista civica insieme verso il futuro, che ha ottenuto l'81,48% dei voti, batte Giovanni Cosentino con la lista civica Arena Sviluppo, che si ferma al 18,51. L'ex forzista Cosmo Tassone ritorna alla guida del comune di Brognaturo, dopo aver indossato la fascia tricolore diverse volte in passato. Ha ottenuto il 55,62% delle preferenze, battendo Bruno Papa, che con la lista rinnovamento e crescita, si ferma al 44,37%. A Capistrano, il coordinatore nazionale dell'Udc Giovani, ha la meglio sul vice sindaco uscente, Domenico Mesiano. Marco Martino, con la lista Noi verso il futuro migliore, ottiene il 53,60%, lasciando Domenico Mesiano al 46,39. A Fabrizio, non è riuscita la rielezione dell'ex PC di S, ora a sinistra italiana, Antonio Minniti, che perde la poltrona di primo cittadino a favore di Francesco Fazio, candidato con la lista Liberi e Giovani con Fabrizia, che ottiene il 56,53% dei consensi. A Filogaso, Massimiliano Trimelliti, con la lista Siamo Filogaso, ottiene il 61,51% dei voti, e batte Aurelio De Gennaro, che si ferma al 38,49%. Giuseppe Pizzonia, invece, con la lista Cambiamo Francavilla e il 59,4%, la spunta su Carmelo Nobile, che con Insieme per Francavilla si ferma al 40,95%. Sfida tra Ionadi, invece, che ha decretato Antonio Arena quale nuovo sindaco della cittadina alle porte del capoluogo. La sua lista civica, sostenuta da vari schieramenti politici, ha avuto la meglio sia su quella dell'ex sindaco Nazareno Fialà, solo il 7% di differenza, che su quella di Antonio Rossi. Stravince a Pizzo il sindaco uscente Gianluca Callipo, che con il 62,27% batte l'ex sindaco e anche ex consigliere regionale Antonio Borrello, che si ferma al 29,25%. Staccatissima la candidata ufficiale dei 5 Stelle, che si ferma a poco più dell'8%. A San Costantino Calabro, un vero e proprio plebiscito, incorona Nicola De Rito quale sindaco, col 97,58% dei voti, contro l'appena 2,41% di Giuseppe Greco. Qui il sospetto di lista civetta è molto forte, come a San Nicola da Cris, dove l'uscente Giuseppe Condello, sostenuto dall'ex vicepresidente della provincia Pasquale Fera, ha ottenuto il 97,53% dei voti, contro l'appena 2,46% di Giovanni David. Confronto più equilibrato, invece, a Spadola, dove Cosmo Damiano Piromalli, con la lista civica insieme per Spadola, ottiene il 54,11% dei consensi, contro il 45,88% della lista civica Siamo Spadola di Giuseppe Parise. A Stefanaconi vince una coalizione formata da democratici, area Denisi, da Sinistra Italiana e anche da Forza Italia, tutti a sostegno di Salvatore Eugenio Solano, che con la lista Siamo Stefanaconi ottiene il 52,47% dei voti, contro il 47,52% delle preferenze ottenute da Nicola Carullo. Ed infine a Vazzano, la sfida all'ultimo voto fra Vincenzo Massa e Raffaele Tassone, sostenuto dall'ex primo cittadino Domenico Villi, viene vinta dal primo con solo sei voti di scarto. Concludiamo con l'esito del voto nei comuni del Crotonese. Sindaci eletti a Cirò e Rocca Bernarda, gli unici due comuni del Crotonese chiamati al voto in questa tornata elettorale. A Cirò era corsa a due tra Francesco Paletta della lista, uniti per Cirò, e Carlo Colucci, sostenuto dalla lista, un'altra a Cirò. Con 216 voti di distacco, 984 contro 768, Paletta ottiene la vittoria grazie alla 56,16% delle preferenze. Tre erano invece i candidati in lizza a Rocca Bernarda, dove la spunta Nicola Bilotta della lista civica a Roccanova, con 983 voti, pari alla 44,06% delle preferenze. Salvatore Bonofiglio della lista civica si cambia, si ferma al 41,86% dei consensi, con 934 voti. Mentre è più staccato Francesco Cocco della lista civica, ora basta, a cui vai la 14,07% dei voti, 314 preferenze. Terminata l'ampia pagina dedicata alla politica, cambiamo decisamente argomento. Domato l'incendio nell'area dell'ex legnochimica, e resta comunque la preoccupazione dei cittadini della zona. L'incendio è stato spento, il cattivo odore che ha reso davvero proibitiva la situazione per i residenti, si sente sempre meno, ma la paura dei cittadini resta, perché l'incendio di questi giorni è solo la punta dell'iceberg. Nella giornata di sabato, gli uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco sono infatti intervenuti per spegnere l'incendio che ha interessato l'area dell'ex legnochimica. Domenica sera l'incendio è stato completamente domato, ma non si tratta del primo rogo in un'area sottoposta a sequestro qualche mese fa, per la presenza di materiale dannoso per la salute dei cittadini, e non è certo la prima volta che i residenti nelle zone vicine hanno dovuto fare i conti con il cattivo odore. In questo caso la paura è stata ed è tanta, le inevitabili ordinanze dei due sindaci dei comuni coinvolti hanno in qualche modo confermato i timori, e a preoccupare è anche un comunicato su Facebook postato da Arpacal, nel quale si fa riferimento alla presenza di IPA, acronimo che sta per Idrocarburi Policiclici Aromatici. Alcuni degli IPA possono essere pericolosi, ma bisognerà capire quali e in che quantità sono presenti. Si attendono quindi risposte certe e chiare, perché il tema ha creato grandi allarme fra i cittadini che vedono a rischio la propria salute. La dodicesima edizione della rievocazione storica della Coppa Sila ha fatto tappa a Castrolibero nel Cosentino. La dodicesima edizione della rievocazione storica della Coppa Sila ha fatto tappa a Castrolibero nel Cosentino, nata per ricordare uno degli eventi più antichi e importanti della Calabria, ma che ha avuto eco nel panorama automobilistico delle corse d'epoca. Una sfilata di auto antica invaso il borgo storico, promossa dall'Associazione Culturale Castelfanco e patrocinata dal Comune, ha inteso esaltare oltre il valore dell'iniziativa anche le bellezze del luogo, così come nelle intenzioni degli ideatori della manifestazione. La scuderia Bruzia è storica CAR di Cosenza. La scuderia Bruzia ha una sua filosofia, che è quella di far rivivere quello che è stato anche il mito delle grandi auto d'epoca, ma ha anche una sua missione, che è quella della riscoperta e della valorizzazione dei territori che vengono toccati dalle quattro ruote. Noi la utilizziamo per questo scopo. Non vogliamo esclusivamente essere degli appassionati di meccanica, di restauro. Amiamo anche l'arte, amiamo la cultura e utilizziamo l'automobile per questi scopi. Proviamo anche a valorizzare con l'aiuto delle amministrazioni comunali, dei centri storici dimenticati o sopiti. A fare da sfondo, infatti, alla mestosità dell'auto, la bellezza del paesaggio. Nelle suggestive piazze, il benvenuto all'equipaggio da parte dell'amministrazione comunale, che non si è lasciata sfuggire l'occasione di presentare la propria cittadina, identificata da molti come l'antica Pandosia. Presente anche il consigliere regionale orlandino greco, a portare i saluti della regione, ma anche di quella che è la sua città natale. Fa riscoprire e rivivere l'arte delle auto di un tempo, dunque, ma anche valorizzazione dei territori. La dodicesima edizione che abbiamo voluto qui a Castrolibero per valorizzare questa manifestazione, ma anche il borgo antico di Castrolibero, da qui ripartire per la valorizzazione, la riqualificazione e poter creare sviluppo, poter creare economia. Una stagione estiva che si avvicina, Castrolibero è sempre stato teatro di eventi e manifestazioni importanti, alcune prossimamente, quindi c'è anche un fervore in questo? Sì, certo, questo è il battesimo, questa iniziativa di una lunga serie di iniziative che metteranno insieme il centro storico e le contrade tutte di Castrolibero per mettere insieme associazioni, movimenti, istituzioni, cittadini e poter fare della cultura un trampolino di lancio per l'economia, appunto, come dicevo, per la valorizzazione dei nostri bellissimi centri storici e per ripartire con forza ed entusiasmo. E anche per questa seconda edizione è tutto, io vi aspetto alle 18 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.